Il ritorno di Ciao Darwin 9 segna un momento atteso e molto chiacchierato della tv italiana, con Paolo Bonolis e Luca Laurenti pronti a condurre questa nuova edizione che si annuncia già ricca di novità e confronti esilaranti tra categorie diametralmente opposte. La nuova edizione, intitolata Giovanni 8,7, riprende il filo conduttore delle precedenti stagioni, esplorando le caratteristiche peculiari dell'uomo e della donna nel terzo millennio. La prima puntata, in onda il 24 novembre 2023 su Canale 5, presenterà uno scontro intrigante tra le categorie degli angeli e dei demoni. Le sfide in programma spazieranno dall'intelligenza alla seduzione, dalla cultura alla prontezza, determinando quale categoria primeggerà nella prova di selezione naturale. Le prove, sempre divertenti e sorprendenti, includeranno momenti come a spasso nel tempo, che trasporterà i partecipanti in varie epoche storiche e luoghi suggestivi, la prova di coraggio, il faccia a faccia tra le due fazioni e il gioco finale dei cilindroni. La giuria, composta da 200 spettatori in studio, decreterà il vincitore di ogni sfida, mentre la colonna sonora di Ciao Darwin accompagnerà il tutto, grazie alla storica sigla Matti di Renato Zero, eseguita dal corpo di ballo. Quest'anno, la madre natura si presenterà in quattro incarnazioni diverse, che si alterneranno nelle diverse puntate, aggiungendo un ulteriore tocco di mistero e imprevedibilità al programma. L'appuntamento per immergersi nelle esilaranti sfide di Ciao Darwin 9 è fissato per il 24 novembre 2023 su Canale 5. La nuova edizione promette di intrattenere il pubblico con il suo mix unico di divertimento, confronto e curiosità, mantenendo alta l'attesa per ogni singola puntata.